Oh, Civai! Allora, se questa areghipa Civai dovrebbe stare qua Insomma, Civai sta nel mezzo del canyon del Kolka Il canyon del Kolka è il canyon più profondo del mondo, sembra Cosa c'è a Civai? A Civai ci si va per vedere i condor, però io non ho visto i condor A Civai ci si va per le terme, però io non ho visto le terme Mi sono fatto Teleton, mi sono fatto un sacco di amici, mi sono visto i mirador Un sacco di bei luoghi La chiesa è forse una delle chiese, nella classifica delle chiese è terza Ma non perché, per il suo fascino, però è carina Civai ci si può passare, io ci ho passato più della settimana E il Natale, il Santo Natale ci ho passato Tutti ci vanno il pomeriggio, dormono, la mattina vanno a vedere i condor e se ne vanno Però Civai è bella, piccolina, ma molto interessante Solo che nella stagione di pioggia piove sempre, come in tutto il Perù Grazie Grazie